e vi raccontiamo la storia delle patate che nasce appunto quando passava quel carretto famoso sotto casa e gridava gelati a un certo punto poi la patata è diventata bollita, rossa, esaurita e quindi abbiamo detto che le patate le patate sono aumentate, sono aumentate le patate, le patate sono buone, le patate sono buone a noi ci piace la patata, a voi mi piace la patata la patata è diventata, a voi mi piace la patata, a voi mi piace la patata, a voi mi piace la patata Le patate, le patate, sono cantate, sono cantate, le patate, le manate sono buone, le manate sono buone. Ricordatevi ragazzi che la patata nasce dalla terra, il germoglio, il sempre che abbiamo seminato poi diventa patata e questo significa che la patata è genuina e buona e quindi tutti di noi dobbiamo avere cura di queste patate che girano ma anche se sono aumentate perché poi le patate danno vita, vita, vita. Le patate sono aumentate, sono aumentate, le patate sono buone, le patate sono buone. A noi già piace la patata, a noi già piace la patata. Mangiala, machiala, 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 machiala. Senza partaggia, non parto se chiunca fa Quando torna a casa, voglio voglio stampa tua Le patate, somentate, somentate Ok, così sbagliato, perché prima l'avevamo fatto bene, quindi meglio così sbagliato Andiamo a far tu tost Andiamo a far tu tost Andiamo a far, andiamo a far, andiamo a far tu tost Non ci faccio più, andiamo a far tu tost Andiamo a far tu tost